Raktusson, prego, un minuto e trenta. Stifo, prego, un minuto e trenta. regione che cercano di implementare la democrazia. L'ambizione è di includere tutti i gruppi in la decisione. Perché di questo, mi incontro la Commissione di studiare i svilupposti della Federazione della Norte della Syriia, Rojava. Mi incontro anche la Commissione di lavorare per un end of the blockade of the region. Let humanitarian aid in give people a fair chance to continue their path towards democracy. Thank you so much.